Il sacrificio per i peccati, una volta per sempre, si è assiso alla destra di più, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi figli. Perché un'unica operazione egli ha reso perfetti, per sempre, quelli che vengono santificati. Ecco, adesso ascoltiamo il Cangelo del Giorno e ascoltiamo... Noi ci sono i piedi, chi ti ascolta, fa frettanto nella volontà e nella libertà del Giorno. Il Cangelo è il Cangelo del Signore, quindi Gesù che parla in mezzo a me. Dal Cangelo di Marco, alla fine a parvi anche agli unici, mentre erano a tavola, e li riproverò per la loro incredibilità e dolezza di pure, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risolto. E disse loro, andate in tutto il mondo e proclamate il Cangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i denti, parleranno lingue e nuove, prenderanno in mano serpenti, e se parlano qualche pulino, non vedrà loro danno. Imporranno le mani innalati, e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato loro, fu arrivato in cielo e sedente alla destra di Dio. Parola del Signore Allora fratelli, abbiamo ascoltato in questo Vangelo che il Signore ha detto ai Suoi discepoli di andare nel mondo ad annunciare la parola. Ecco, allora noi ci chiediamo di fronte a questo Vangelo, ci chiediamo a chi possiamo dare la parola del Signore, a chi la possiamo portare. In questo mondo in cui, in un mondo disacralizzato, in cui l'uomo non crede più in nulla, in un mondo anche specializzato. Pensiamo ancora che bisogna andare nel Tempio, nella Chiesa, per pregare. In un momento in cui ci è avvenuto qualcosa di male nella nostra vita, ecco, magari abbiamo una malattia, abbiamo perso il lavoro, e quindi che cosa facciamo? Andiamo al Signore, ci sentiamo del Signore solo in questi momenti. Poi che facciamo? Ritorniamo di nuovo alla nostra vita profana. Ebbene, in un mondo in cui c'è una crisi di fede, in cui appunto l'uomo non crede più in nulla. L'uomo pensa che dare amore, pensa che dare amore al proprio fratello sia una cosa che lui non può fare da solo. Ed è vero, non lo può fare da solo, ma lo può fare solo con l'aiuto di Dio. Ecco, io sono qui presente stamane per farvi partecipare anche della mia esperienza. Anche io pensavo, prima di entrare in questo cammino, pensavo che una cosa era andare in chiesa, una cosa era la vita religiosa, una cosa era la mia vita quotidiana di tutti i giorni. E anche io, come molti altri, andavo in chiesa a chiedere aiuto al Signore solo nei momenti in cui mi serviva. Poi mi sono resa forte invece che il Signore, lo dico, di riuscire a fare il Signore in qualsiasi momento della mia vita, soprattutto nei momenti belli, perché in quei momenti che io devo ringraziare il Signore per quello che mi dà. E ho scoperto che praticamente nessuno può darti la gioia, la gioia che ti dà Dio nel momento in cui stai attraversando il momento spiacevole della tua vita e ti rendi conto, come dicono molti altri salmi, che l'uomo non ti dà aiuto. E' inutile confidare nell'aiuto dell'uomo, ma è meglio confidare in Dio. E questo io l'ho sperimentato. Ho sperimentato che nessuno nella vita ti dà aiuto, ma nel momento in cui tu chiedi, chiedete e vi sarà dato, dice il Signore. Nel momento in cui ti chiedi al Signore e il Signore ti dà quello che tu cerchi. E continuando poi quello che è il discorso del Vangelo, quello di portare agli altri, allora ecco dice il Signore, dice che noi dobbiamo portare agli altri, e noi che siamo la Chiesa, la Chiesa ecco dobbiamo uscire anche da questo modo di pensare, la Chiesa non deve essere vista come Tempio, ma la Chiesa siamo noi chiestiani, ma noi chiestiani dobbiamo dare la luce su Cristo e gli altri. E attraverso lo zello, attraverso l'amore per Cristo, ecco dobbiamo distinguerci nella società. In che modo dobbiamo distinguerci? Dagli altri in che modo? Ecco nel momento in cui ci viene chiesto...